Buonanotte meninas, buonanotte, buonasera a tutti è ora di dare inizio alla serata innanzitutto grazie mille allo staff di tutto il punto interrogativo e l'opportunità di farci lo spettacolo e anche un compleanno in questo periodo molto difficile e la ringrazio anche Raffa e Raiuto per invitarmi e presentarmi per voi il suo compleanno con voi, inizio dell'ospettacolo alla festejata un grande applauso per Raffaella Rilton Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voglio ringraziare la presenza di tutti, sono troppo felice, non è tanto quello che ho invitato, perché alcuni sono stati con dei problemi, con il sport, con tutti quanti, però che vale non è la quantità, insomma la qualità. Sono troppo felice e vi ringrazio a tutti. E' emocionata ragazzi, poi festa immaculata, treino che non si parte, treino che va, treino che viene. E' importante e che siamo qui a festeggiare il suo compleanno. Un applauso a Raffaella Rilton.